Cinque parole che forse, forse sbagli a scrivere. Guarda tutto il video che te fa bene, male non te fa. Partiamo. Dappertutto è un'unica parola, quindi non di apostrofo, appertutto. Dappertutto è un'unica parola e si scrive con due P e con tre T e significa ovunque, da qualsiasi parte. Occhio questa persona che fa, lievita o levita? Questa persona sta levitando, cioè acquista leggerezza tanto da sollevarsi magicamente nell'aria, mentre il pane sta lievitando con la I, cioè aumenta di volume per effetto della fermentazione del lievito. Un piccolo libro, le poesie di Giacomo Leopardi, che carino, può essere sia un libricino, sia un libricino. Qui potete stare tranquilli. Questa, che cos'è? Questa è una liquirizia con la I. Questo è il termine corretto in italiano, mentre liquirizia con la E è una variante popolare e regionale. Oggi è lunedì e abbiamo iniziato la dieta. Due errori che vedo spesso in giro. Il primo, l'iniziale. I giorni della settimana si scrivono con la lettera minuscola, piccola, small. Due, l'accento. Bisogna usare sempre l'accento grave, mi raccomando. Chiaro, no? Aspetto i vostri commenti, fatemi sapere quante ne sbagliavate. Dagli, dagli, che so curioso. Grazie a tutti.